Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Top Farmer. Oggi parliamo di case IH. Ecco la mietitrebbia affollata a unci. Supportate il canale con un mi piace e un commento e iscrivetevi per essere sempre aggiornati sulle novità in campo agricolo. Grazie. Iniziamo. Case IH, uno dei principali produttori mondiali di macchine agricole, ha recentemente presentato la sua ultima mietitrebbia innovativa, la mietitrebbia affollata a unci. Questo nuovo modello rappresenta l'apice dell'innovazione e della tecnologia nel settore delle mietitrebbie, offrendo prestazioni, efficienza e affidabilità eccezionali. Questa volta presenteremo in dettaglio la mietitrebbia case IH affollata a unci e le sue caratteristiche. Design ed estetica, la mietitrebbia affollata a unci di case IH è caratterizzata da un design moderno ed accattivante. Con linee aerodinamiche e una sofisticata tavolozza di colori, questa mietitrebbia non è solo esteticamente gradevole, ma anche funzionale ed ergonomica. La cabina è stata progettata per il massimo comfort, con un layout operativo intuitivo e una visibilità ottimale di tutti gli aspetti della macchina. Tecnologia avanzata, la mietitrebbia affollata 11 è dotata della più recente tecnologia per migliorare l'efficienza e la precisione delle operazioni di raccolta. Sistemi avanzati di monitoraggio e controllo consentono agli agricoltori di monitorare e regolare le prestazioni della macchina in tempo reale, garantendo un raccolto ottimale in tutte le condizioni. Prestazioni e potenza, la mietitrebbia affollata 11 offre ottime prestazioni grazie al suo motore potente ed efficiente. Grazie alle prestazioni elevate e alla trasmissione avanzata, questa mietitrebbia può lavorare facilmente grandi volumi di raccolto riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni. Affidabilità e durata, Case IH è nota per la sua qualità e affidabilità e la mietitrebbia affollata 11 non fa eccezione. Questa mietitrebbia è realizzata con materiali di alta qualità e progettata per resistere alle condizioni più difficili. Progettato per durare, garantendo un ritorno sull'investimento a lungo termine per gli agricoltori. La mietitrebbiatrice Case IH affollata 11 è un'eccellente aggiunta alla gamma di prodotti del marchio, offrendo la perfetta combinazione di design, tecnologia, prestazioni e affidabilità. Capace di gestire un'ampia gamma di colture e condizioni di raccolta. Questa mietitrebbia è la scelta ideale per gli agricoltori che cercano una soluzione versatile ed efficiente per le loro operazioni di raccolta. Con la mietitrebbia affollata 11, Case IH riafferma il proprio impegno verso l'innovazione e la soddisfazione del cliente fornendo prodotti di alta qualità che soddisfano le esigenze degli agricoltori moderni. Manutenzione e assistenza. Un altro punto di forza della mietitrebbia Case IH affollata 11 è l'attenzione prestata alla manutenzione e all'assistenza. La macchina è progettata per consentire un facile accesso ai componenti chiave, rendendo le operazioni di manutenzione e sostituzione più rapide ed economiche. Inoltre, Case IH offre un servizio clienti di prim'ordine, con un team di esperti a disposizione per fornire consulenza e assistenza per garantire che la vostra mietitrebbia sia sempre in ottime condizioni. Sostenibilità e rispetto per l'ambiente. Case IH è impegnata nella sostenibilità e nel rispetto dell'ambiente e la mietitrebbia affollata 11 riflette questo impegno. Questa combinazione di tecnologie che migliorano l'efficienza del carburante e riducono le emissioni aiuta a minimizzare l'impatto ambientale dell'azienda agricola. Inoltre, Case IH promuove pratiche agricole sostenibili tra i suoi clienti e fornisce formazione e risorse per aiutare gli agricoltori ad adottare pratiche agricole rispettose dell'ambiente. Personalizzazione e opzioni. La mietitrebbia affollata 11 offre un'ampia gamma di opzioni e personalizzazioni per soddisfare le esigenze specifiche di ogni agricoltore. Dalle diverse dimensioni del battitore alle opzioni di taglio e pulizia, ciascuna mietitrebbia può essere configurata per soddisfare le esigenze specifiche dell'operatore. Questa flessibilità consente agli agricoltori di ottenere i migliori risultati in termini di resa e qualità del raccolto. Conclusione. La mietitrebbia affollata 11 di Case IH rappresenta un passo avanti significativo nel mondo delle macchine agricole, combinando prestazioni elevate, tecnologia avanzata, affidabilità e sostenibilità in un unico pacchetto. Con la sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di esigenze e condizioni di raccolta, questa mietitrebbia si posiziona come una delle migliori sul mercato. Case IH continua a dimostrare il suo impegno verso l'innovazione e l'eccellenza, fornendo soluzioni avanzate e affidabili che aiutano gli agricoltori di tutto il mondo a ottenere i migliori risultati dalle loro operazioni. Con la mietitrebbia affollata 11, Case IH conferma il suo ruolo di leader nel settore agricolo, offrendo un prodotto di qualità superiore che risponde alle esigenze degli agricoltori moderni. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo AgriVideo.